6-1 del Potro, primo set. Questo suo secondo match a Basilea cerca di confermare la sua ottima tradizione a livello di ATP 500 quest'anno del Potro che ha vinto tutti i suoi titoli. A livello di 500, Rotterdam battendo in finale Julien Benetton, Washington sconfiggendo nell'atto conclusivo John Isner e poi più di recente Tokyo dove la sua cavalcata era cominciata proprio battendo Marcos Bagdadis in 3-7. Lui che è avanti 3-2 nei precedenti ma in ben 4 dei 5 confronti diretti aveva perso il primo set del Potro invece stavolta comincia con il piede giusto. Bisogna comunque ricordare che Grazie 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 a tutti